Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per l'undicesima ed ultima parte della guida relativa ai bersagli. Questa volta dovremo andare per sei diverse isole sparse per il mondo. In cinque di queste troveremo i bersagli e sull'ultima il Tegolas che ci darà la ricompensa. Un piccolo consiglio se affrontate questa missione, dato che bisognerà navigare tanto per mare, ogni volta che uscite con il tritone salato io vi consiglio di castare protezione divina, abilità del lucente che sbloccate con 8 punti abilità andando un po' avanti nelle sue abilità di classe. La castiamo così ci evitiamo scontri con nemici più deboli di noi. Andiamo. Cominciamo dall'isola australe che è l'isola che si trova più vicina a Gondolia. È qui nel primo mare in cui arriviamo appena sblocchiamo la nave. Sbarchiamo e andiamo qui a prendere il primo bersaglio di questa lunga serie. Arrivati sull'isola australe giriamo subito a sinistra, percorriamo questo luogo pieno di mostri e arriviamo a quest'albero qua in cima. Il primo bersaglio è proprio qui. Posizione sulla mappa dell'isola australe, lo colpiamo e via. Ci teletrasportiamo poi a Cala Sirena, dato che da lì potremo poi raggiungere le altre isole in cui ci sono i bersagli. La prossima è l'isola dell'Alga. Io starò zitto e vi farò vedere velocizzato il percorso per raggiungerla. Ecco qui la posizione della seconda isola, è molto vicina alla regione di Jelaim e facciamo un giro e sbarchiamo. Giunti sull'isola delle Alga, proseguiamo dritti, arriviamo qua in cima e poi a destra. Vedete quel ponte? Lo dobbiamo superare. Passiamo oltre al ponte e già da qui potete intravedere il bersaglio che dobbiamo colpire, è proprio qui. E fuori anche il secondo. Prossima meta è l'isola Boreale. Ed ecco l'isola Boreale, si trova esattamente dietro a Dalboria, per intenderci alla regione ghiacciata. Ok, sbarchiamo. Il bersaglio dell'isola Boreale è molto molto semplice da trovare, si trova esattamente sotto questo primo ponte che incontrerete. Lo facciamo saltare e anche il terzo se ne va. Torniamo alla nostra nave e ci dirigiamo alla prossima isola. Per arrivare all'isola centrale dobbiamo prendere questo fascio di luce e suonare l'arpa di Lorelai, altrimenti non potremo arrivarci. Suonata l'arpa, verremo teletrasportati, passando nelle profondità marine, fino a questa isola che si trova in mezzo a un laghetto. Proseguiamo ed eccola qui. Questa è la posizione della mappa sull'isola e andiamo. Il bersaglio dell'isola centrale si trova sopra questa parte qui, vicino al luogo in cui potete aprire quella chiave magica. Eccolo qua. Colpiamo, via anche il quarto bersaglio e cambiamo di nuovo isola. Ed eccoci qui all'isola orientale, l'ultima isola in cui troveremo un bersaglio. Attracchiamo e andiamo. Arrivati sull'isola orientale andiamo verso destra. Superiamo questi campi. e qui sulla destra, guardando in alto, troviamo l'ultimo bersaglio di sempre. Lo colpiamo. Via! Sono finiti tutti quanti. Dobbiamo andare dal Tegolas. L'isola del Tegolas è molto vicina a Cala Sirena, quindi di nuovo ci teletrasportiamo lì. Da Cala Sirena, prima stiamo ovviamente a protezione divina, l'isola del Tegolas è questa qui davanti. Eccoci qua. Sbarchiamo. E arrivati all'isola occidentale entriamo nella piccola capanna che c'è qua sopra. L'ultimo Tegolas ci sta attendendo. Per darci anche l'ultima ricompensa. Che comunque ragazzi, come vi ho già detto, sono degli Ansel Motel questi qui. Complimenti, nessuno dei bersagli nascosti sulle isole di Erdrea è sfuggito alle tue frecce implacabili. Accetta questo premio, te lo sei meritato. E otteniamo quattro Pimpaciliegie. Le Pimpaciliegie ci fanno entrare direttamente in status Pimpante, se le assumiamo. Ok. E abbiamo finito anche tutte quante le isole. Ma il video non finisce qui, perché dovremo tornare da Baal a recuperare la nostra ricompensa finale. Quindi ci teletrasportiamo a Galoppoli e torniamo dal nerboruto uomo. Ed eccoci qui a Galoppoli. Baal è come sempre dove lo abbiamo trovato all'inizio. Eccolo qui. Incredibile, ha infilzato con un dardo tutti i bersagli che aveva nascosto in giro per il mondo. Sei davvero uno straordinario tiratore scelto. Vedere quanto ti sei impegnato per superare la mia sfida mi ripaga più che abbondantemente del sudore che ho versato per prepararla. Ti prego, accetta questo dono con il quale voglio premiare le tue capacità. E otteniamo un cappello della gioia. Credo che il tuo amore per il tiro con la balestra sia puro, sincero, immenso, totalizzante. Non ho più nulla da insegnarti. E otteniamo un mega titolo. Cecchino globale. Conferito per aver centrato tutti i bersagli esistenti a Derdrea. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo concluso la missione. Il cappello lo potete vedere qui. Vediamolo un attimo. Cappello della gioia. Copricapo che scalda il cuore e fa recuperare gradualmente i PM a chi lo indossa durante i suoi viaggi. Non è malvagio, soprattutto su questo punto del gioco. E lo potremo equipaggiare a una delle nostre maghe. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questa piccola serie relativa ai bersagli. Guardate anche i video di Andrea di Natural Born Gamers per avere una versione scritta di tutto quello che è stato fatto qui finora. E nulla. Vi ringrazio e ci vediamo durante la serie e sugli altri contenuti di Two Times Nerd. Buona serata ragazzi. Alla prossima. Alla prossima.